Guardavo a Matrix, non so, hanno chiesto, non so chi era questo politico, non so se era un politico, un tanto più vari, gli chiedevano ma secondo loro queste nuove riforme che stanno facendo sul lavoro, porteranno beneficio subito, no? Questo diceva che adesso non serve a un cazzo fare queste riforme, che prima bisogna far risalire l'economia, ma vorrei dire io, ma se non crei lavoro come cazzo fa a crescere l'economia? Cioè, questi sono tutti fuori di testa, oggi ci vogliono rincogliudire tutti quanti, ma andate a fare il culo, va, io del blues, salvaci da tutta sta demenza, stipidi di...